ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo star valor allora clicchiamo italiano clicca sul punto qualsiasi per chiudere ok è prima cosa da fare per ogni gioco è andare sull'audio e abbassare la musica allarm sound non so cosa sia metteremo a 20 più rilassante nel frattempo ci controlliamo i controlli vs di bla 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 va bene va bene va bene opzioni non che mostra tutorial strumenti numeri fluttuanti ok va bene va bene video ok lasciamo frequenza target 120 fps bando le cianci ciancio alle bande andiamo subito a provare questo gioco che io non ho mai provato e questo è una preview inedita da parte mia perché io non ci ho mai giocato vediamo cos'è sembra un po old style da sala giochi per chi è vecchio come me si ricorderà benissimo le sala giochi streamer che sono non so cosa sia rilassato al core esperienza posso mettere un più cosa vuol dire power management stoccaggio energia generazione di energia bonus tech armadan danno dell'arma andiamo così via volete vedere gli altri allora a armo plating curvatura accelerazione velocità massima distanza di curvatura potenza scanner bonus di esplorazione possibilità di strade metalli bonus geologia commercio bonus e bonus comandante frotte intanto andiamo con questo morte permanente cioè però non si può fare secondo me è questo al core va beh non posso più cliccare da nessuna parte ancora non lo fa cliccare va bene crea nome personaggio scusate meno dimenticato il nome del personaggio di otta danno da collisione fico gioco la mission tutorial grandezza la granascia 15 media va bene crea partita ha raccomandato joypad fa cacare e non è vero allora premi accento grave in game per cambiare mandato di guida della nave a ed io mouse l'accento ma perché guarda me lo immaginavo che c'era una cosa tipo star wars ok un ombra in compre sulla galassia il flagello alieno senza sono suo padre conosciuto con il nome di venghi venghi no signori perseguita ormai senza tregua quella che resta dell'umanità sono già passati dieci anni dall'invasione che vide tre gigantesche stazioni spaziali e l'esercito di terra decimate i milioni morirono nell'esercito dell'umanità fu completamente sottomesso mi è diventato dal punto mi ero dimenticato il punto in mangiare parole sotto il dominio dei venghi no signori una nuova normalità prende forma mentre molti hanno paura alcuni sono abbastanza audaci da rischiare tutto cogliere le opportunità e cercare fama e fortuna però traduzione qui ci sta ok continua nella tana del bianconiglio a che se la gente smith ok si è appena arrivato se molo grazie te lo mostro vabbè andiamo che cacchi ok ah non ho capito non è vero ma sto facendo cretinate va alla stazione civile ah ok oddio però aspetta perché si metto dietro ah la punta è questa ok 5 pentiniele civile non ho capito dove devo andare io qua ah ecco perché c'è il danno collisione ci sono x comunicazione lascia perdere allora fermi tutti g a terra g completato bene accetta queste visita quattro settori inesplorati cercasi nave cargo accetto tutto io elimina contrassegna contrassegna sigiae contrassegna sigiae non lo posso fare commercio hangar crafting però costruisci per 10 ma ship enhancement signori c'è tanta roba ok andiamo a fare i bersagli che mi piacerebbe tanto capire aspetta terraggio premi c per atterrare su ds quando sei vicino a una stazione ma non era cera g ok questo cos'è un portale ci entriamo subito 15 17 p e questo succede buio pesto troppo buio per la migrazione manuale il combattimento utilizza invece il tuo equipaggiamento ok ci abbiamo io sto sparando droni da combattimento bersaglio per colpirmi al midi da difesa pd oppure cerca di evitarli comunque il pd pensi hai scoperto il nascondiglio di navi indipendenti cioè ostili predoni eccolo qua ma mi fai mi fai il culo questo ok signori è stato bellissimo siamo delle cacchie c meccanica combattimento estrazione commercio dire a combattimento armamento un danno secondo per arma resistenza corazza di un punto questo ok allora come si fa dove sono le misi alla m o allora mappa della galassia campo da si jump gate va bene allora consegna regionale asic curvatore c'è come ci arrivo la da qua da qua qua da qua 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 là è un po lunga la cosa ma se no aspetta incognito e ho capito i secondi che io premo m lui mi fa vedere la cosa però io non vedo le missioni è pepporo va bene armi funziona q e r shift i tasti per selezionare ogni livello sono q e r invece ti riprenduto shift per ridurlo ma cosa andiamo a q e r a a a a ho capito questa energia qua possiamo dirgli quale energia andare in overpowered e poi ma perché si sta muovendo campi di detriti avvicinare i detriti premi g per fermare la tua nave e ti per iniziare la ricerca ma perché g sta premendo g g inventario impostazione è figo il che ti spiega tutto però sto capendo un caso è il combattimento ostile ma perché si è aperta sta roba dov'è a ma cosa non più facili ok ho capito dove sono i detriti g non si ferma però ma sto raccogliendo hanno j madonna ma che tasti ricerca cancellata tieni premuto space a ma perfetto ma va che me li frega ok ce l'abbiamo fatta allora j stai entrando nella zona morta questa zona è la zona morta nonostante possa tranquillamente non succedere nulla interessante alla fine non raggiungere nessun settore a ok aveva io volevo fare le missioni ciao mercante c'è volevo 17 pie aaa shift aumenta oh questo cos'è aaa hai capito j no questo io non ho capito questa roba allora fermi tutti allora qua sotto mi dici che devo andare da una parte andiamo di qua eccolo lì c'è la missione campo di asteroidi pupuzzo dobbiamo stare attenti agli asteroidi eeeh hai una missione in un altro settore premi t per aprire la mappa e la gatti vabbè ok eeeh portaci un paio di cristalli blu bene allora cristallo blu eccolo qua ah si possono distruggere sti cosi ma ah raggio d'azione deflagrante questo è bottino premicinetto inventato materiale greci abilità conoscenza specialità specialità quindi c'è la progressione in base a ciò che faccio picco ma non l'ho messo su attacco va bene no no prezzi più bassi le altre navi vi considero di due livelli superiori prima di attaccare o negoziare costo di assunzione dell'equipaggio se ridotte poi abbiamo condensatore di potenza e ricerca più veloce andiamo con l'attacco c'è un punto ah no già l'ho messo una volta messo basta aaaaaa ok allora eeeh fermi tutti questo qua Sifunallo questo qui questo è rame allora eeeh con questa voce squillante devo dire che c'è un puntino che lampeggia la minimap guarda allora eeeh t non è t eeeh vediamo ok l'ho capito e questo si dov'è la grave no non per un attimo mi stanno rosso c'è un'altra missione di là eh andiamo a fare l'altra missione all'inizio devi cominciare a capire come si guida poi dopo un po' ce la fai siamo arrivati com'era eeeh g vabbè completa la missione consegna ma io non c'avevo altre missioni scusami ne avevo presse 7 io ok ah ho capito allora backspace e registro di missioni ma non è vero i tassi sono fasulli b b backspace per aprire cose delle missioni ma non è vero backspace cioè se io sono qua lobby non è vero qua backspace non è vero vabbè lobby bacheca missioni ma le mie riparare commerciare ma le mie quali sono i miei ah no assunto assunto eeeh cosa fa questo tasso di acquisizione livello tecnico non posso associare nessuno il discorso è che io non ho capito dove dove stanno le missioni mappa satellite tab ok già questo ci aiuta un po' possiamo mettere settore per settore la missione io sono qua devo andare qua se io faccio così me lo fa vedere sulla mappa no si è il puntino la freccetta verde ok andiamo e spacco tutto per questo eeeh allora fai così polvere tanti eeeh andiamo verso la missione nuovo livello c ah ho capito eeeh g completa missione perfetto nella tana del bianconiglio dopo aver danzato tra gli esteri di una normale corsa in taxi sarà un gioco da ragazzi equipaggiamento merce vedete qualcosa di scrivetelo perché io è bellino è male ma non sto capendo un cazzo tutte queste cose qua progetti conosciuti componente base rottame metallico e ferro quindi c'è il crafting aspetta che ho visto una cosa g madonna il pennella g è bruttissimo qua flotta quindi puoi crearti una flotta attenzione promettente progetti what cosa sarebbe ah ah modificazione questo lo posso modificare ok eeeh eeeh tab mo devo andare qua credo eh ritorniamo al punto di prima praticamente vi sta facendo consegnare l'oggetto che avevo preso ok no questo non si distrugge è sottofondo però non sembrava ho preso danno eeeh ci vuole... questo è il raggio minerario col tasto destro sarebbe figo un po' più veloce forse dovremmo appunto aumentarlo in alto a dest... che è successo? c'è la raffineria che ha sparato? quindi ci prendiamo anche questo facciamo un po' di crafting vediamo di raccolta sono 1070 per distruggerlo noi faremo tipo 2 di danno mi si alzo un po' ok evitiamo tutti mi ha messo wow ah sono diventato un pilota c'è la nave ok andiamo qua fermi G ho un brutto presentimento l'ho fatto ok dovrei anche ricevere aspetta perché si vede sotto il tip brutto aaaah Sofia Turing aaaah dovrei anche ricevere anche chiedere dove si trova ora questo cosiddetto amico non importa ci penso io quindi tab si trova qua comunque la freccetta gialla ok ue 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 giovanni via ci siamo eh quella è grande eeeh andiamo Sam non sono un cacciatore di taglie sei in debito con me sei in debito con me fino al collo ce l'ho già fatto? beh sembrerebbe via più uno geologia control eeeh questo non fai io ti ho vitato per stai sentendo nella zona morta G no forse do ah questo è forse ho sbagliato devo portarlo da questo la ragazza sta ah eccolo qua indipendente G no eeeh C no eeeh mi dice questo però non ho capito cosa fare ti giuro come si fa a comunicare fermi tutti opzioni controlli eeeh eeeh vabbè eeeh non c'è quello che mi interessava Spinning roll Aiming, aiming, aiming Full stop, change, speed Alternate, commando Inventori, scavenge Comunicazione Non lo so Io lo ammazzo Mi spiace Ma forse Forse dovevo ucciderti Dovevo ucciderti E dimmelo prima che ti dovevo ammazzare Nuovo livello, premi C No Scanner Ricerca Questo G Yeah, ce l'abbiamo fatta Che cazzo è successo? Sono stato aggiunto al tuo registo Usa Una si trova in questo settore Mentre altre potrebbero essere lontane Controlla mappa M E registri Y Ce l'ha detto Y Allora Ma perché sono tutto rotto? M Ok Sono qua E Y Che è il tasto Questo Non ce lo fa Ci fa fuffa L'Y M Dobbiamo andare qua Però una dice che si trova in questo settore Sarebbe qua No Fermo Se io vado qua Dove vado? Ma questo cos'è? Non lo so Un luogo speciale Premi B per controllare la mappa del settore Che cazzo è successo? Ma non è vero B non controlla la mappa del settore Non l'ho capito B Esperienza Vabbè Livello 4 neutrale Che cazzo è successo? Dove cazzo sono finito? Qua Ah sono giusto Devo andare qua sotto io Cioè 28 11 28 11 Mi serve Quindi se io faccio così No Qua Steroide Steroide Ma non c'è il 28 11 Che ci porta da qua a qua? Non lo so Qua c'è qualcosa Il covo dei pirati c'è qua Trovate il covo dei pirati Oh Sì 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 Il trovo dei pirati Il trovo dei pirati No Questi mi fanno il culo Mi fanno Mi c'è Il covo dei pirati Troppo forti Si spaccano il culo Mazzomanella Ok Va bene Allora G Ah io accetto tutte queste Così abbiamo delle missioni Ok Allora Una missione Andare in alto Trovate il covo dei pirati Flip I tasti che ci sono un po' troppi tasti da premere Riceverai Vabbè Ogni tanto dice queste cose Vai lì e torna indietro Va bene Oui Oui Cioè Col mignolo devo fare Shift E contro Insieme Per fare Percorrere E pirulettare Frenazio No Non è questo È questa che fugge L'indipendente Vai 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 Ma io se premutti Lo aggancio No Ok Questo è quello di prima Forse Boh Non lo so C'è una cosa Aspetta 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 Prendila Preso Laser leggero G Ok Perfetto Adesso cerchiamo di capire Di andare nel 2811 Come si fa andare nel 2811 1915 2914 Covo Mercenari Voglio andare nel covo mercenari C'ho il jump gate qua Questo sono io? Sì Ok Quindi Eh che palle Allora Covo mercenari Mi decide di andare nel covo mercenari Non lo so Seguiamo il covo mercenari C'è una nave maledetta Questo ci fa malissimo Madò Aspetta Ma che è? Ha fatto malissimo Ma Che cazzo Prima non c'era Questa cosa qua No 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 Questo ci fa malissimo Nessuno ci salverà Uh pure i nemici Ma che è? Tutti i nemici ci sono G riparati Grazie Ho fatto il nonno Ok Che cosa è sta Lizza Energia Canalizza Energia Penso Immagazzinata Uccelli di energia Batte il computer Eh Ah 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 Eeeh Va bene Qui C'è stato qualcosa di Ah bene Eeeh C'è una formattazione Sbagliata Qua eh Allora Migliora la ricerca Praticamente fa quello Ok Codex del mercante Eeeh Questo Va bene Venghino Cannone leggero O vulcan Vulcan rapido Eh E dove sono Disegnare tutto Solo te disegnare tutto Ah Disegnare tutto E eliminare tutto Ma Che cazzo Vabbè Eeeh Comunque La nostra Cosa che Volevamo Non c'è più Abbiamo finito Già tutto Io volevo andare qua Nel verde Però c'è quello lì Ueh Ma abbiamo cambiato Una vicella Ah ma si zooma Cazzo Non sapessi Uh Piu Piu Abbiamo cambiato Una vicella Questa è più fica Si capisce meglio Dove 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 Il coso Ma io posso Entrare qua Pip Sbattuto Ok Eeeh Quindi c'è Il 19 Andiamo qua Ma se faccio G Ah ok Ma c'è questo qua Sam Ma chi è Sam Ma vuol dire che è mio Semolo Semolo In partire comandi Errore getting Index 41 Puoi premere Error getting keybind On index 41 Per fare fuoco Oppure puoi premere Anche il getting keybind On index 42 Per cessare il fuoco Capito? Va bene Quindi quello è il nostro amico Eeeh Andiamo Adesso che abbiamo l'amico Buio pesto Buio pesto Eeeh Guardate qua Andiamo a morire qua Siete pronti? Nel frattempo prendo P.E.A. Minchia C'è tipo Wow Eeeh No voglio Questo qua C'è più veloce Nuovo livello Eeeh L'avevo appena preso Condensatore di potenza Guarda 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 Questa sarà La nave ammiraglia Si ma faccio cagare Va bene signori Eeeh Allora bisogna Eeeh Naturalmente questa è una preview E bisogna A Giocarci un po' Per capire tutta la serie di comandi Ci sono qualche piccoli Eeeh Piccoli errori Ma è un early access Quindi ben ci sta Eeeh Di solito non lascio mai Un commento su una preview Eeeh Ma questa volta Devo dire Che potrebbe essere Molto carino Dopo un po' di ore di gioco All'inizio è veramente devastante Non capisci molto Ma dopo Credo che sia Veramente carino Forse anche Cambiare la modalità Di eeeh Di come Tu guidi la navicella Cioè Invece che col mouse Che fa da puntatore Forse il WSD Non lo so Eeeh Forse un minimo di movimento Sarebbe meglio Magari dopo le navicelle Saranno molto Più maneggevoli Manettrabili Cioè Quelli che tu le manovrabili Manovrabili Ecco Mi rie il termine Bene signori Eeeh Direi che Per oggi è tutto Come sempre Non ve lo sto qua a ripetere Ma ve lo ripeterò Lasciate un commento Un like Se vi va Iscrivetevi sul canale Per far crescere Questo canale E portare sempre Contenuti Eeeh Sempre più Strambi Bizzarri Nuovi E diversi E come sempre Siete medici Alla prossima Bye bye Bizzarri 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 Bizzarri